L'Alfa Romeo 147 GTA è una versione ad alte prestazioni della berlina compatta Alfa Romeo 147. È stata prodotta dal 2002 al 2005 dalla casa automobilistica italiana Alfa Romeo. Il design della 147 GTA presenta un frontale aggressivo con una griglia di dimensioni maggiorate e paraurti più pronunciati rispetto alla versione standard. La parte posteriore presenta un diffusore specifico e un doppio scarico cromato. Inoltre, la vettura monta cerchi in lega da 17 pollici e un assetto ribassato. La 147 GTA è equipaggiata con un motore 6V a 24 valvole di 3,2 litri di cilindrata che eroga una potenza di 250 cavalli vapore e 300 nanometri di coppia. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e spinge la vettura da 0 a 100 chilometri orari in 6,3 secondi, con una velocità massima di 246 chilometri orari. La vettura presenta un sistema di trazione anteriore con differenziale autobloccante Q2, che assicura una maggiore trazione e una guida più sportiva. La 147 GTA ha anche un sistema di freni maggiorato con pinze Brembo a quattro pistoncini all'anteriore e due pistoncini al posteriore. L'interno della 147 GTA presenta sedili sportivi in pelle, un volante sportivo in pelle, finiture in alluminio e un impianto audio Bose di serie. Inoltre, la vettura ha una dotazione completa di comfort e sicurezza, tra cui clima automatico bizzona, sistema di navigazione, sensori di parcheggio, airbag e ABS. Complessivamente, l'Alfa Romeo 147 GTA è stata una vettura molto apprezzata dagli appassionati di auto sportive grazie alle sue prestazioni elevate, al design accattivante e alla guida entusiasmante.